buon pomeriggio a tutti lezione numero 18 oggi continuiamo e finiamo volta buona il nostro notepad che ormai ci ha accompagnato da un po di lezioni e andiamo avanti parlando di programmazione ad eventi quindi per la prima volta introdurremo cos'è un evento cosa che in realtà abbiamo fatto tramite segnali ma erano una scorciatoia in realtà gli eventi sono generati dal sistema operativo ci consentono catturare gli eventi del sistema operativo ci consente di avere molti più gradi di libertà cosa che invece con i segnali non abbiamo ma questo vediamo dopo a che punto siamo arrivati ci siamo interrotti ieri che stavamo realizzando il menu dei file recenti per far questo serve salvare quando noi apriamo un file salvare questa informazione che abbiamo effettivamente un nuovo file nei recenti che poi vogliamo mostrare nel menu ci serviamo di una classe session che si occupa di salvare quindi rendere persistente la sessione quindi tutto ciò che avviene dentro la mia sessione compresi file recenti vengono poi propagati nelle sessioni successive nelle aperture successive dell'applicazione quello che ho aggiunto io giusto come esempio ulteriore di come salvare le cose oltre ad un'opzione booleana ho salvato anche il font attuale quindi ci sarà nell'init default ci sarà un font di default che ne so calibri 14 e poi ci sarà nella parte di lettura il sabotaggio del nome del font alla dimensione se grassetto non grassetto se corsivo non corsivo e nel salvataggio ci sarà la stessa cosa speculare salvataggio e lettura sono sempre speculari non c'è niente di che nel main window ho creato una funzione di utilità perché l'ho creata perché nel new action triggered nell'open action triggered cioè quando un documento veniva creato o nuovo o aperto c'erano c'è una serie di cose che bisognava fare in entrambi i casi cioè connettere il segnale che il testo cambia allo slot il segnale che il cursore cambia allo slot dove si va a mettere nella status bar sai alla linea colonna tal dettagli bisognava aggiornare l'opzione di andata a capo e in questo caso bisogna anche settare il font ora siccome queste quattro righe di codice che realtà possono diventare di più se aggiungiamo il colore se aggiungiamo altre caratteristiche da salvare queste cose andavano messe sia qui in fase di apertura sia qui in fase di new è cosa buona ragazzi quando voi avete 5 6 7 righe di codice che si ripetono forse è il caso di creare una una funzione quindi un metodo che ho chiamato init document che invoco qui e ovviamente invoco qui e dentro questo init document ci sono tutte le cose che bisogna fare quando c'è un documento da inizializzare in termini di connessione di segnali in termini di opzioni in termini di font quindi quello che succede molto banalmente così come veniva salvata la funzione di l'andata a capo se io adesso io cambio il font che in questo momento è courier new ma io posso mettere che ne so questo chiudo riapro e dovrei avere lo stesso font ho lo stesso font ovviamente non mi piace questo font rimetto quello che c'era prima quindi posso mettere grassetto la dimensioni la posso cambiare posso fare quello che quello che quello che voglio ok e quindi questo significa che la nostra il registro di sistema adesso si è arricchito non c'è solo non c'è più solo un'opzione booleana di andata a capo ma c'è anche una stringa la famiglia del font un booleano per italico non italico corsivo e poi ci sono dei numeri la dimensione in termini di grandezza e weight sarebbe lo spessore perché il grassetto è un è uno spessore intermedio poi ci sta molto grassetto poco grassetto ci sono tutta una serie di sfumature che cuttivi consente anche di impostare quindi è un intero che determina la sono numeri vedete 14 e 50 14 proprio la dimensione e 50 è lo spessore a metà il numero tra 0 e 100 50 è il grassetto standard per dire per scusate non è questo standard e lo spessore standard non grassetto per intenderci quindi va beh quello che facciamo lo vediamo anche nel registro di sistema ora però nel nostro registro di sistema noi vorremmo vedere si benedetti far recenti l'obiettivo è questo dobbiamo andare avanti quindi abbiamo intanto noi domanda predisposto la nostra classe session per leggere salvare questi file recenti mi pare di no perché abbiamo sì un metodo per aggiungere un nuovo file che effettivamente aggiunge ad una lista di far recenti il nuovo file però non abbiamo né salvato nel letto questi file recenti a livello di predefinito non c'è niente da fare perché quando un'applicazione parte la prima volta non ci sono ferre centi quindi nulla c'è da fare qui però in lettura e scrittura dobbiamo sicuramente fare qualcosa ora questo è un buon esempio perché i file recenti sono una sequenza non è un'opzione singola quindi è il momento di usare il begin write array quindi settings begin write array e dobbiamo dire quanto dobbiamo dire come si chiama lo chiamiamo recent files e poi ci deve essere anche una chiusura settings and array se non ci ricordiamo io non è che mi ricordo tutto della documentazione significa avere manuale in testa ricordo più o meno che dobbiamo fare un ciclo in cui dobbiamo andare a settare l'indice poi fare set value però per essere coerenti andiamo a vedere se ci ricordiamo bene dobbiamo dobbiamo sì dobbiamo fare un ciclo settare l'indice e settare le cose che dobbiamo salvare quindi per for generalizzato perché è tanto comodo per ciascun file nei file recenti dove sta nella lista dei file recenti quindi anziché scrivere ragazzi di nuovo questo è è un modo più veloce anziché scrivendo per lista cosa sono? questo cosa sono stringhe danni per favore l'iteratore di una lista di stringhe it uguale recent files punto begin e ho già finito la larghezza dello schema quindi non vado avanti quindi no non lo facciamo più così cioè fate come volete però non si usa più quindi settings punto set array index diciamo qua siamo un po' in difficoltà perché questo indice non ce l'abbiamo abbiamo appunto un iteratore e vabbè poco male ragazzi insomma ci facciamo furbi e più più post incremento quindi prima viene valutato il valore che parte dai ad a zero e poi viene incrementato perché si è arrabbiato? che vuoi? perché non ho messo il punto e virgola e poi dobbiamo fare settings punto set value lo chiamiamo path e ci mettiamo ci mettiamo il il contenuto questa è una lista di e una lista di string beh ragazzi siccome stiamo in qt forse valeva la pena fare una lista di qstring così non dobbiamo ogni volta convertire da string del c++ a string a string di qt quindi facciamo una lista di qstring così nessuno si lamenta e non ci mettiamo più non dobbiamo scrivere 2 st di string ogni volta ok è tutto qua la scrittura la lettura è praticamente speculare se contiene anzi non serve neanche chiedere se contiene perché in lettura noi possiamo chiedere quanto è lungo questo array in lettura ci dice appunto quanto è lungo se è lungo zero significa che non c'è quindi questo ciclo nemmeno noi ci rientriamo quindi in lettura basta dire c'è il tipo per per le dimensioni è un intero a 64 bit senza segno si usa molto quando si parla di potete anche metterci l'int se vi da fastidio c'è il città città dim uguale settings.begin read array stavolta e qua ovviamente ci dobbiamo mettere lo stesso nome altrimenti non salviamo una cosa con un nome la leggiamo con un altro non funzionerà mai and array ok bene quindi adesso dobbiamo di nuovo fare il nostro ciclo in recent files dobbiamo fare di nuovo il nostro indice settings.set array index e più più questa volta facciamo il getter quindi value non set value quindi se io dico settings punto value di path lui mi da l'iesimo path in questa lista e lo devo convertire a stringa questo lo posso mettere nella nostra vista present file punto pushback o push front ci dobbiamo un attimo ragionare io salvo dal primo all'ultimo leggo dal primo all'ultimo il primo che leggo lo metto in coda il secondo che leggo lo metto in coda il terzo lo metto in coda e quindi così come li ho salvati così li sto leggendo quindi l'ordine è preservato in lettura e in scrittura a me non così sembra ci si è dimenticato qualcosa non mi pare qua ci sono più righe di codice perché si settavano più campi qui abbiamo soltanto un campo quindi non vedo non vedo altre difficoltà ok ragazzi questa cosa semplice non so se vi è sembrata semplice però molti studenti quando arrivano alla fine del progetto e devono fare la persistenza si impantano proprio su queste cose nonostante abbiano fatto un gioco super mega fantastico e complesso molto più complesso ovviamente di questo questo però non entra per qualche motivo questo non vi entra in testa ci sarà un motivo che ovviamente adesso magari ignoro quindi se avete delle perplessità fatemele presenti anche voi online potete anche farmele presenti dopo bene questo per quanto riguarda session adesso però la parte dell'interfaccia grafica è quella un po' più ostica in realtà cioè dobbiamo gestire questo menu aggiornare eccetera intanto chi è che deve dire chi è che dovrebbe dire address and files in quale punto di main window noi dobbiamo dire alla nostra sessione che c'è un nuovo file aperto all'interno di quale di questi metodi new action triggered crea un nuovo documento vuoto diciamo alla sessione che c'è un file recente quale file recente quale è vuoto mica puoi salvare un path vuoto qui non qui qui open e se ci pensate anche qui e anche qui perché quando noi andiamo a salvare se salviamo un documento che prima non aveva un file e adesso ce l'ha beh quello diventa un documento recente quindi non è soltanto in apertura ma anche in salvataggio di un file beh intanto facciamo l'apertura in fase di apertura l'apertura ammazza quanto l'abbiamo fatta complessa vabbè perché ci sono diverse cose da tenere conto il momento in cui apriamo è questo questo è il momento in cui stiamo creando un nuovo documento con questo file path quindi questo dovrebbe essere il momento in cui diciamo action che è un oggetto sessione che sta dentro il main window ricordate abbiamo definito qui alla fine session punto add recent file file path e questo aggiunge ci consente di tenere traccia delle cose che apriamo però come ho detto prima dobbiamo stare attenti anche al salvataggio quindi il salvataggio tra l'altro il savez non l'abbiamo mai fatto dobbiamo completare anche un po' questo note però il savez ragazzi parliamoci chiaro come funziona il savez richiamerà il save in qualche modo richiamerà il save il savez poi vediamo come anzi non è nemmeno detto che questo metodo ci tocca implementarlo qual è il momento in cui un file da che non aveva nome adesso sa nome e beh è questo se il documento corrente non ha un file path lo chiede all'utente e se l'utente lo seleziona questo è il momento in cui il documento assume un file è allineato con un file e poi viene salvato non questo perché else significa che questo documento già era già associato un file quindi quando l'aveva aperto era già stato salvato era già allineato non c'è bisogno di metterlo nei file recenti quindi il momento se metterlo nei file recenti è questo quindi di nuovo session punto address and file file path quindi quando noi salviamo un documento che non aveva file e quando apriamo un documento da file questo file path viene messo nei file recenti e come ce ne accorgiamo che avviene? per esempio andando a monitorare il registro di sistema c'è qualche problema sì oltre all'ovvio problema che è già aperto quale altro problema c'è? ok c'è qualche problema si parte sempre dal primo errore che in questo caso sono complessi perché quando ci sono i template gli errori sono più complessi e si dice che l'errore sta qui ah vabbè il getter era con le vecchie stringhe invece abbiamo detto che sono qstring tutto qua dovrebbe essere solo questo il problema no qual è il tuo problema adesso? ah stessa cosa non abbiamo aggiornato il 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 metodo ok quindi adesso abbiamo questo file poi apriamo mi piacerebbe aprire il file con i requisiti lo sta con i requisiti della progettazione che utilizziamo per tenere traccia di quello che dobbiamo fare quindi sta in questa cartella progettazione e e poi che ne so apriamo un altro file e adesso mi piacerebbe vedere che succede qua domanda per chi si ricorda tenuto traccia di tutte le cose che abbiamo fatto se adesso premo F5 appaiono o non appaiono questi recent files mi ricordate quando è che abbiamo deciso che avverrà il salvataggio? ogni volta che io faccio qualcosa nell'applicazione o quando chiudo? me? consideriamo sicuramente questa scelta però poi decidemmo di metterlo nel distruttore e quindi se io faccio F5 non c'è effettivamente nessun nessun recent files però se chiudo sì almeno me lo aspetto se io chiudo adesso faccio F5 non c'è qui ma si è aperta vedete questo è diventato una una specie di cartella cioè si è aperta una nuova una nuova entry recent files in cui abbiamo size la dimensione di questa sequenza e abbiamo 1 2 e 3 che sono appunto i file che abbiamo salvato qua ci sono i path non so se si vede vabbè ragazzi questo è il registro di sistema che pretendete che è fatto bene pure l'interfaccia state pretendendo troppo eccolo qua e vabbè questo era il terzo file aperto era il terzo file aperto o il primo li ha salvati in ordine inverso era il primo quindi li ha salvati in ordine inverso eh ok no li ha aperti due di fila li ha aperti due di fila sì però la pena c'è l'interfaccia eh perché ho aperto quello con i nostri requisiti era al centro però mi ricordo che quello che era più a sinistra era non era questo mi ricordo che era perché ha fatto push front sul salvataggio effettivamente deve essere il più recente deve essere l'ultimo che ha aperto ok 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 ha ragione è giusto così cioè che in testa ci sia quello che prima era l'ultimo giustamente è giusto perché è il più recente questo è uno dei file recenti non è il vettore delle tab che c'era sopra deve tenere conto dell'ultimo quindi gli ultimi saranno i primi grazie mi ero confuso ma è giusto quello c'è questo push front è questo che fa questa inversione ok bene quindi effettivamente il salvataggio lo stiamo facendo però la grafica non ovviamente dobbiamo ancora farla la parte di menu e beh intanto c'è questo sottomenu recent files sì c'è l'abbiamo creato quella volta si chiama proprio dove sta recent files open recent è un menu quindi il menu c'è adesso devo aggiungere le action mano a mano che ci sono qual è il momento di fare questa cosa momento in cui quando è che si aggiorna il menu dei file recenti siamo attenti si aggiorna quando parte l'applicazione sicuro si deve popolare però mi aspetto che durante l'utilizzo questo menu pure si deve aggiornare cioè si apre un nuovo file questo menu deve praticamente fa scivolare i file recenti in basso e il nuovo file deve andare in alto quindi ci deve essere uno scorrimento e un po' di meccanismo da implementare quindi che io adesso vado nel costruttore e alla fine del costruttore faccio questa popolazione del menu non è giusto farlo lì o meglio comunque poi devo questo menu aggiornarlo tenerlo sempre aggiornato ogni volta ogni volta che io apro un file oppure salvo un file quindi quindi mi converrebbe creare una funzione dove faccio questa specie di popolazione del menu di 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 qualcosa una strategia potrebbe essere cancello quello che sta nel menu e lo rifaccio quindi è una sorta di metodo di update perché conviene cancellare perché ragazzi modificare rispetto a cancellare è più complicato perché modificare significa che devi spostare il secondo nel terzo cioè devi fare una specie di slittamento alla fine sono saranno una decina di azioni perché dobbiamo di nuovo ricordate la lezione di ieri perché dobbiamo ottimizzare come se fossero dei maniaci proprio dell'efficienza non è necessario ottimizzare dove non dove non ci sono queste esigenze quindi possiamo anche fare un approccio un po' più tranquillo e quindi cancellare il menu dei file recenti e ripristinarlo aggiornato però secondo quello che in quel momento sono i file recenti ogni volta che bisogna farlo quindi quando parte l'applicazione quando salvo un file quando apro un file quindi creiamo un metodo deve essere un metodo pubblico un metodo privato che chiama sto metodo il main window lo chiama non è che lo chiama document no a parte che document non comunica con il main window document è un contenuto ma non è un contenitore non può cioè può ma non è il caso di che il document parli con chi lo contiene session nemmeno session addirittura è agnostico nemmeno può sapere se questa è un'interfaccia grafica oppure no e quindi per forza qui non serve metterlo pubblico è un metodo di utilità un po' come in it document questo possiamo chiamarlo update recent files possiamo chiamarlo proprio così e dove lo mettiamo per esempio lo mettiamo qua sotto e ci devo scrivere in questo update recent files prima cosa da fare è me l'ho detto cancellare tutto quello che c'è e rimetterci e metterci quello che c'è adesso in questo momento esiste un metodo per cancellare quello che c'è esiste una specie di clear action cancella tutte le azioni quindi menu di recent files come ti chiami recent come si chiama questo menu eh open recent menu ecco beh open recent menu è una specie di clear ma funziona siamo sicuri clear delete una cosa vediamo nella documentazione se il clear funziona davvero non bisogna mai fidarsi del sembra di sì però è una cosa importante clear remove all the menu's actions actions owned by the menu and not shown in any other widget are deleted ah quindi se io avrò cura se avrò cura quando creerò le azioni di settare come padre questo significa owner questo menu quando dirò clear a questo menu il menu non solo svuoterà ma farà pure il delete delle azioni che non mi dispiace perché comunque sono degli oggetti che non mi servono più usa e getta in pratica perché ogni volta cancello metto cancello metto quindi se ne fa il delete non mi dispiace quindi e quindi sì sembra sembra essere funzionante poi vediamo se funzionerà quindi clear e muovo tutte le azioni e beh adesso ce la devo mettere dove piglio queste azioni quante ce ne sono una per ciascuno dei file recenti e chi è che sa quali sono i file recenti il getter di session present files che cosa restituisce il recent files una lista di stringhe beh ragazzi restituisce una lista di stringhe vedete di nuovo come ho usato auto restituisce quello che restituisce qual è il vantaggio di usare questi auto che se io qui cambio il tipo anziché fare una lista di stringhe faccio una lista di q string o viceversa non devo andare qui a cambiare ecco perché questo è un modo di programmare che si sta affermando ormai da diversi anni c++ quando è possibile usare auto sta per l'automatica il compilatore si accorge in automatico di cosa si tratta di che tipo di variabile è quindi per ciascuno di questi file per ciascuno di questi recent files non c'era nemmeno bisogno di scriverlo qua potevo direttamente scriverlo qua dentro quindi risparmiamo una riga di codice per ciascuno di questi file recenti bisogna creare queste azioni quindi coaction act uguale new coaction vuole sapere la stringa e il padre la stringa dovrebbe essere proprio il percorso proprio il contenuto di questo questa è una lista di string quindi f e poi il padre dovrebbe essere open recent menu questo farà sì che quando faccio clear si cancellano tutte le azioni davvero si cancellano basta creare l'azione? beh no non basta creare l'azione intanto vediamo se funziona quindi open recent menu add action vediamo in che ordine le crea se tutto va bene se le crea davvero questo chiaramente bisogna sicuramente invocarlo alla fine del costruttore e poi anche da qualche altra parte c'è niente lo sbaglio qualcosa e vabbè succede che abbiamo sbagliato lo sbaglio qualcosa qua recent files ah ah files zero come mai? e come mai? perché siccome noi possibilmente cos'è successo? abbiamo quando abbiamo aperto i tre file abbiamo chiuso ha salvato ma poi forse abbiamo aperto un'altra volta notepad per fare qualche altra cosa abbiamo chiuso non c'erano file recenti e lui lo ha salvato zero cioè perché ha salvato zero effettivamente? una domanda lecita c'è un bug oppure perché non abbiamo ancora concluso tutto? ma dove è successo questo salvare? ha salvato size zero quindi significa che anche se qua ci stanno uno, due, tre sono un residuo in realtà zero significa che per lui è vuoto questo array perché ha salvato zero? chi è che gli ha detto di salvare zero? beh perché è come se lui non avesse letto viene da pensare che lui non ha letto bene il numero di file e poi ha salvato zero perché non aveva letto bene vediamo quindi in read se il problema sta in read begin read array dim questo dim perché ci è servito? ci è servito io voglio zero set array index pushback pushback e pushback lo vedo perché path l'abbiamo salvato con path abbiamo chiamato recent files abbiamo chiamato recent files vabbè proviamo a fare una cosa però però quello è un clear sulle actions a me non preoccupa la grafica è separata questa cosa funziona se nel registro ce ne stavano tre ce l'ha scritto tre lui quando legge deve leggerne tre e poi richiude e deve salvarne tre perché quel clear agisce solo sulle actions non agisce su su quello che c'è qui dentro quindi intanto fatemi rimettere qualche stampa facciamo un po' di debug sono cose che possono succedere quindi un po' di pazienza proviamo a ne ha lette zero quindi vedete prima c'erano ora non ci sono più apriamo un file chiudo adesso nel registro di sistema ce ne stanno do sta registro di sistema ce ne sta una uno infatti adesso riapro e mi deve leggere uno legge uno chiudo e andiamo a vedere che c'è un registro di sistema c'è zero e quindi da qualche parte c'è qualcuno che resetta questa questa variabile chi è questo questo tizio quindi lui scrive bene legge bene quindi se scrive bene se legge bene il responsabile di questo reset è qualcun altro e chi è chi sarà mai a resettare recent files aspetta non chiamiamo questa però noi stiamo facendo il clear su un menu non ha alcun senso che cancelli anche i file recenti stiamo iterando sui file recenti creando un'azione anche questo non dovrebbe essere un problema è un bel mistero leggo zero ne apro uno leggo uno legge uno chiudo e poi la prossima legge zero quindi non era non l'ho chiamata più questa funzione ovviamente non poteva essere questo il responsabile di questo bug a questo punto possiamo chiamarlo col suo nome questo è un bug e il bug bisogna è come un'indagine investigativa bisogna vedere dove dove andare come dice Binotto dobbiamo capire però mentre lui dice questo da un anno e non capisce noi forse oggi ovviamente arriviamo alla soluzione ragazzi sono un tifoso della Ferrari sto soffrendo tanto quindi permettetemi queste battute polemiche pure Crozza lo dice no dobbiamo capire così però dobbiamo capire alla fine è sempre quello il motto ok non voglio fare adesso la figura del Binotto quindi diamoci una sveglia sto address and file a sta lista la può ingrandire ma non può farne il clear quello che mi viene in mente quello che può succedere è che ok ok io ho capito il problema però vorrei che lo trovaste voi quindi io non sono Binotto l'ho trovato il problema certo è molto più facile eh no è giusto che l'indice parta da zero è molto subdolo mi viene in mente niente dai qualcuno lo deve trovare io ce l'ho davanti sta davanti quindi il suggerimento è questo non fate Binotti trovatelo sta proprio qua sta qua in questa riga quello è un ciclo che dice per tutti gli elementi che stanno in recent files leggi ecco non ci stanno elementi leggi non ci stanno elementi se parte se questa è una lettura inizialmente non ce ne stanno e quindi tu qua dentro non c'entra proprio perché siccome non ce ne stanno non entra qua dentro non legge non inserisce zero questo non è giusto siccome abbiamo letto questo Dim tra l'altro un altro indizio ma come leggi la dimensione della Re non la usi mai anche quello è un indizio per int i uguale zero i minore di Dim i più più questo è il ciclo giusto siccome è detto che ci stanno Dim recent files per Dim volte devi fare il set di quell'indice e andare a fare pushback quindi questo non serve più non ho spiegato non lasciatevi ingannare dal fatto che è un for generalizzato fosse anche stato il for std list iterator voi state iterando su un contenitore vuoto quindi non ci iterate proprio e quindi non leggete e quindi adesso adesso mi riapro i miei file quindi prima questo poi riapro lo sta questo percorso qui questo percorso riapro questo qua come prima identico e poi riapro questo chiudo riapro e stavolta vorrei vedere non vedo perché abbiamo commentato la riga però almeno il registro dovrebbe mostrarci che non c'è più quell'orribile rispetto a zero adesso ma se ce ne sono due c'è un altro bug dovrebbero essere tre perché ce ne sono due e minnaggia ho lasciato i più più quelli più più aveva senso prima adesso non più 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 è facile raga i bug sono veramente facili da da ottenere beh a questo punto però io quasi quasi faccio faccio l'hacker e e qui io cancello proprio questa cosa qui la cancello così partiamo dalla situazione pulita ho fatto una specie di pulizia del registro ora capite che si intende per pulizia del registro cancellazione delle entri corrotte cose di questo tipo cose che non corrispondono ne apro questo poi apro questo e poi apro questo chiudo vado intanto a commentare a decommentare il codice perché pensavamo potesse ma non mi ero per niente convinto essere il responsabile del bug adesso dovrei vedere il menu con quelle tre ok li vedo in che ordine li vedo vedo prima quello che prima era l'ultimo aperto ed è giusto poi quello di mezzo e poi il primo che aveva aperto quindi l'ordine è quello giusto ci piace che vediamo il file path questa è una scelta a volte conviene metterci soltanto il nome del file altre volte tutto il percorso perché un file potrebbe avere lo stesso nome certo fa un po' schifo però questi percorsi lunghi normalmente non ce li ha nessuno ma ce li ho io perché qua c'è il nome del corso il nome del modulo una serie di cose altrimenti comunque non sarebbe così lungo il problema però è che io faccio quando clicco qua dentro non succede niente non succede niente perché quelle sono delle action a cui non ho connesso alcuno slot quindi è il momento di connettere lo slot e quindi connect cosa l'azione quale segnale triggered a chi arriva a me quale slot quale slot per esempio open sarebbe carino se potessimo siccome questo se io premo su un file recente perché lo voglio aprire e quindi open action triggered suona bene il problema è che quando io vado in open lui mi parte sparato con un bel file dialogo che è selezione file da aprire ma noi l'abbiamo appena premuto il file da aprire e allora che possiamo fare passo la palla a voi possiamo sfruttare uno dei meccanismi visti fino ad oggi che ci consente qui di sfruttare questo slot sia per quando il segnale proviene dalla cartella apri oppure dall'action open sia quando il segnale proviene dall'azione open recent nome del file sempre introspezione introspezione professore si possiamo usare l'introspezione quindi di nuovo possiamo dire ma per caso per caso il sender di questa cosa qui qobject sender per caso dynamic no non serve dynamic cast per caso il sender cioè chi ha inviato questo segnale è l'open action come si chiama open action si chiama per caso è open action chi ha inviato il segnale che vuole che io apro un file è l'azione di apertura perché se è l'azione di apertura allora è giusto assolutamente creare un file di dialogo è giustissimo ma perché mi da perché devo metterci l'ess se invece non è open action per esclusione chi altro può essere una delle azioni del menu e noi siamo in grado di recuperare il file path da una delle azioni dall'azione che ci ha mandato il segnale e beh è il nome stesso dell'azione quindi vedete aver deciso che non so se l'abbiamo deciso comunque è capitato che l'azione ha per nome proprio il file path e non soltanto il nome del file adesso ci consente di dire guarda se adesso questo io me lo se io mi converto il sender object sender eh no scusate se lo converto a coaction chi? il sender e gli chiedo chi è il suo nome name c'è un object name così? no veramente ricordavo e name object name andiamo su qua andiamo nella documentazione di coaction e vediamo se object name è proprio il nome dell'azione che appare nel testo oppure si chiama text non vorrei che si chiamasse text mica si chiama text e mi sa che text ok l'azione dell'azione dell'azione c'è proprio il nome dell'azione quindi non è name ma è text beh a questo punto siccome il file path in un caso lo prendo dal dialogo nell'altro caso invece lo prendo dal nome dell'azione allora lo devo dichiarare fuori definire fuori e dire in questo caso lo prendo dal dialogo in quest'altro caso lo prendo dal nome dell'azione è giusto chiedersi se non è vuoto perché comunque non sappiamo che cosa è successo quindi e quindi quindi va bene e notate che questa cosa funziona anche nel caso di file che è già aperto cioè se un file è già aperto sta nei recenti e io lo riapro dai recenti lui lo siccome l'altra volta l'abbiamo fatto lo andrà a riselezionare di nuovo quindi quindi vediamo open recent partiamo dall'ultimo l'ha aperto partiamo da questo l'ha aperto partiamo da questo e l'ha aperto ha aperto funzionato e però non è perfetta questa funzionalità perché non è perfetta perché vediamo se lui se adesso seleziono l'ultimo lui mi rimette questo però notate una cosa che quando io apro un file in qualunque ordine io l'ho l'ho aperto anzi no chiudiamo l'applicazione e vediamo se quello che vediamo nel file del registro di sistema ci piace dove sta sei come mai sono sei erano tre perché sono sei perché sono sei l'azione non è stata fatta da open ho capito dove vuole arrivare l'azione non è stata fatta da open però noi qua ci andiamo e aggiungiamo i file recenti questo sta dicendo sta dicendo che noi abbiamo aggiunto alla sessione un file recente che in realtà già c'era ma allora vi chiedo la responsabilità di evitare duplicati nella lista non solo ma anche che se un elemento è già presente nella lista ma sta in fondo e io l'ho aperto quindi address and file viene invocato questo elemento che sta in fondo dovrebbe diventare il primo quindi se già c'è non è che tu dici non faccio nulla no deve diventare il più recente di chi è la responsabilità di fare tutte queste operazioni tra l'altro di mantenere una lista non lunga più di dieci per esempio perché non voglio più di dieci file recenti main window oppure la sessione alla fine queste sono delle caratteristiche della sessione una sessione che non abbia più di dieci file recenti una sessione che tenga memoria degli ultimi file aperti quindi tutte queste cose non dobbiamo farle qui nel main window ma dobbiamo farle qui in questo address and file che quindi non è un banale push front ma è un po' più raffinato di questo innanzitutto dovrebbe avere una dimensione massima questa ce la mettiamo in un'opzione esterna adesso la mettiamo nel codice però questo numero dovrebbe essere un numero che si deve settare in qualche presente quelle opzioni quelle preferences da qualche parte qualunque software c'ha sì ok qualunque software c'ha una 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 ideata di preferenze con tutte le opzioni proprio anche le cose più piccole chissà se c'è anche la la il file recenti qua secondo me ci sta present file history max number of entries 10 e posso cambiarlo quindi questo intendevo però noi non è che oggi abbiamo il tempo di fare una cosa di preferences con tutte queste cose non ce l'abbiamo il tempo però volendo si può fare quindi supponiamo che sia 10 numero massimo di file recenti beh noi dobbiamo adesso dobbiamo tagliare questa lista quindi abbiamo giunto un elemento ah innanzitutto dobbiamo prima controllare se l'elemento c'è perché se l'elemento c'è dobbiamo riportarlo in testa se l'elemento non c'è lo possiamo aggiungere semplicemente in testa oppure possiamo fare una cosa proprio ignorante se l'elemento già c'è lo rimuoviamo e lo riaggiungiamo in testa se non c'è lo aggiungiamo in testa e quindi lo aggiungiamo sempre in testa sia che c'è sia che non c'è solo che se c'è dobbiamo toglierlo quindi if come si chiama recent file se ce l'ha un find non ce l'ha il find però non c'è problema esiste il find della stl se find devo dargli il primo iteratore l'ultimo iteratore è il valore quindi se se tra il primo e l'ultimo trovi 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 cosa trovi file path cppu std find cosa restituisce quando lo trova e cosa restituisce quando non lo trova di solito restituisce l'iteratore end quando non trova una cosa val value return if no element match the function return last last sarebbe l'ultimo elemento di questo range che nel nostro caso è end quindi dire che l'ha trovato purtroppo questo è cppu stl quindi lunga la riga se cercandolo lui viene restituito l'ultimo quindi l'iteratore significa che se non viene restituito l'ultimo significa che l'ha trovato quindi questo significa l'hai trovato vedete quanto è lungo invece in python sarebbe stato sarebbe stato in python una cosa tipo finiva qua la 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 di controllo il cppu è un linguaggio verboso e si stanno facendo molti tentativi per renderlo più semplice meno verboso meno come si vede del resto in questo esempio vabbè se l'hai trovato devi eliminarlo quindi ci sarà un metodo di rimozione spero di sì per favore ci stai ce l'hai ovviamente sì quindi rimuovi file path quindi se c'è lo rimuove e poi lo aggiungerà in testa quindi è come se risalisse se non c'è lo aggiunge comunque in front e poi siccome vogliamo mantenere una lista più grande non più grande di dieci se la nostra lista supera i dieci elementi con dieci che deve essere un'opzione settabile da qualche parte dobbiamo eliminare l'ultimo l'ultimo è il più vecchio il meno recente adesso quindi cosa dovrebbe succedere beh intanto sì più che l'ultimo l'iteratore end restituisce non l'ultimo no allora find la documentazione dice che se trova l'elemento da cercare allora restituisce l'iteratore a quell'elemento se non trova niente restituisce l'iteratore all'ultimo elemento del range che in questo caso end quindi dire diverso da end significa che qualcosa l'ha trovata non ho salvato il dove però tanto non c'è bisogno perché tanto faccio remove sì si poteva salvare il puntatore il iteratore a quell'elemento trovato e utilizzare il remove che prende in ingresso l'iteratore anziché l'elemento da cercare ha ragione che questo è un po' inefficiente perché questo prima cerca e se lo trova il remove purtroppo pure lui deve cercare per andare a rimuoverlo quindi lo cerca due volte quindi questa è complessità tdn2dn a essere proprio precisi però ripeto non siamo proprio così pignoli però è giusto come osservazione beh il problema è che adesso per vedere se funziona o non funziona io ho il registro corrotto perché ora ci stanno due volte ormai i duplicati già ci sono è inutile non posso toglierli l'unico modo è ripulire il mio registro e ripartire da una situazione pulita e vedere se adesso le cose vanno come dicevo quindi apro questo poi apro no questo non funziona più perché ho fatto copia e incolla di un'altra cosa poi apro questo e poi questo chiudo e riapro e dovrei avere tutti e tre tra l'altro sarebbe carino anche che lui riapra tutte le cose recenti però parliamone se vi va di farlo però è una funzionalità un po' più aggiuntiva rispetto a quello che ci siamo prefissi come obiettivi adesso quindi li apro in un altro ordine per esempio apro prima l'ultimo e poi apro quello di mezzo e poi apro il quello che prima era il primo che avevo aperto questo ok quindi adesso questo è diventato l'ultimo aperto quindi adesso vediamo se sta in cima a tutta la lista è in cima a tutta la lista e tra l'altro non ci sono duplicati quindi effettivamente le cose stanno avvenendo nel modo giusto abbiamo fatto il menu dei file recenti fine questo è il menu dei file recenti l'unica cosa abbiamo detto che dobbiamo inserire il menu dei file recenti l'address and file va aggiunto non solo quando noi andiamo a leggere un documento ma anche quando lo andiamo a salvare e non abbiamo fatto il seves quindi finiamo di fare questa cosa no l'address and file l'abbiamo fatto anche con il seves quindi mi aspetto che se adesso io apro i miei tre documenti qua lo stanno li riapro e poi creo un nuovo file e lo salvo in che ne so qua lo chiamo pippo adesso chiudo e riapro e ci dovrebbe essere anche nei file recenti anche pippo cioè quindi ed era l'ultimo tra l'altro che avevo salvato sincronizzato e quindi ragazzi questa è un'applicazione che sta funzionando effettivamente come si deve il sevese non l'abbiamo fatto allora che significa sevese sevese significa che non mi interessa che il file sia già sincronizzato in un che il documento sia già sincronizzato su un file sevese significa che io voglio salvato da un'altra parte ok quindi se io volessi riutilizzare il save action triggered potrei effettivamente però il salvataggio lo dovrei forzare anche nel caso in cui qua ci sia un file cioè ragazzi cosa possiamo fare di nuovo per sfruttare il save action triggered quindi questo possiamo anche cancellarlo possiamo anche dirgli nello slot dove sta quando abbiamo detto nel connect abbiamo detto connetti save as action to save as action trigger connettiamo due azioni allo stesso slot che quindi adesso non ci serve più questo slot save action trigger save as però è il discorso è lo stesso dell'open defa recenti se tu vuoi usare con uno slot se tu vuoi prendere due piccioni con una fava ti devi chiedere da chi viene questo segnale quindi save action triggered vabbè a parte chiedersi se non c'è nessun documento selezionato non salvare nulla è banale questo però dobbiamo chiederci chi è il sender quindi se il sender il sender è save action se il sender è save action allora va bene tutto quello che c'è qui altrimenti cos'è che devo fare in realtà qual è quella parte di codice in comune tra save e save as beh a me sembra che sia questa cioè in cui si chiede il file all'utente da salvare ed effettivamente si si va a salvare su questo nuovo file quindi forse più che chiedercelo qui dovremmo dire una cosa del tipo se il documento corrente non ha un file settato oppure se il sender oppure se il sender è save as in entrambi i casi io devo salvare su un file da chiedere all'utente se del accordo quindi ho implementato il save as aggiungendo una condizione nell'or del save massimo riciclo di codice invece magari un programmatore come anche io a posto vostro alle prime armi avrebbe fatto un save as con più o meno questo codice qui duplicato perché è diverso il save as è diverso dal save ma in realtà non è così diverso hanno una parte in comune questa parte in comune l'abbiamo attivata funzionerà non funzionerà vediamo apriamo pippo e salviamolo come Pluto adesso adesso dovrebbe succedere oltre al salvataggio questa tab dovrebbe cambiare da pippo in Pluto se abbiamo fatto bene le cose succederà succede e nei file recenti che abbiamo fatto appare pippo non appare Pluto perché quando noi apriamo non andiamo ad aggiornare i file recenti giusto adesso se io chiudo e riapro appare anche Pluto dovrebbe appare però prima non appariva perché il menu dei file recenti non è aggiornato durante il programma quindi ci siamo dimenticati dove l'abbiamo messo nell'open nell'open questa app quante volte l'abbiamo chiamato nel costruttore ma non basta bisogna chiamarlo anche bisogna chiamarlo anche dopo dopo l'open bisogna chiamarlo anche dopo il save magari qui o qui beh bisogna chiamarlo in realtà dopo che fai un address in file quindi è più corretto chiamarlo qui così come anche qui è più corretto effettivamente chiamarlo solo qui quindi adesso rifaccio la stessa cosa ma a questo punto dovrebbe funzionare se Pluto lo salvo con nome con Pippo Pluto e Paperino adesso ho Paperino e ho anche la nuova entry questi sono file distinti quindi effettivamente anche se hanno lo stesso contenuto adesso questi sono tre file distinti che stanno nel menu dei file recenti nell'ordine inverso rispetto a come li ho aperti adesso è finito il menu dei file recenti è il save se andiamo nella nostra progettazione quindi a questo punto abbiamo fatto la persistenza sì più o meno parzialmente per esercizio completare la persistenza con apertura automatica documenti recenti e salvataggio colore del testo e altre opzioni non abbiamo il tempo di fare tutto tanto più o meno il meccanismo è sempre quello ci rimangono a fare queste quattro cose che in realtà non sono quattro ma è un po' tutta la stessa cosa dobbiamo aggiornare i pulsanti quando io cambio i documenti quindi che significa che se qua c'è un documento da salvare effettivamente c'è un documento da salvare com'è che non c'è ho premuto salva involontariamente qui c'è un documento da salvare qui no però la funzione è attivata quindi questa cosa va fatta tra l'altro io ho chiuso l'applicazione ma nemmeno chiesto se volevo salvare le modifiche rimaste in sospeso questo non va bene perché appunto è una delle cose che dobbiamo fare bene esiste uno slot abbiamo fatto uno slot per quando si cambia la tab si l'abbiamo fatto e beh allora questo è il momento per dire è cambiato è cambiata la tab questo si aggancia ad un segnale si aggancia ad un segnale current change l'indice della tab segnale emesso dalla qtab widget e qui ci dobbiamo mettere ragazzi ci dobbiamo mettere se si scambia la tab cosa devi aggiornare il tasto salva il tasto undo e il tasto redo perché sono le tre opzioni che dipendono dal documento correntemente selezionato aiutatemi a capire se ce ne sono altre wordwrap è un'opzione globale cioè è applicata a tutti i documenti non al documento specifico che ho aperto salva è corrente undo e redo sono opzioni del documento corrente qua non ce ne sono altre il font è un'opzione globale il colore è un'opzione globale non ce ne sono altre sono tre quindi sono queste tre cose che devo che devo mettere qui le devo mettere queste tre cose mi serviranno solo quando cambia la tab in realtà anche quando chiudo una tab perché quando chiudo una tab passo da una tab all'altra e anzi facciamo una mettiamo una per caso non lo so tab cambiata questo slot quindi il segnale tab change viene invocato anche quando io chiudo una tab e quindi io quello che vedo è che cambia la tab correttamente selezionata vediamo quindi sto qui tab cambiata tab cambiata chiudo tab cambiata ok quindi effettivamente viene invocato in questo momento sembra che venga sempre invocato e va bene allora posso mettere tutto qui il mio codice non devo chiedermi in quali altri punti e beh ragazzi c'è poco da fare save action set enabled sarà enabled se se il documento corrente attenzione non il documento corrente il documento dell'indice quindi tabs widget all'indice dato convertito in documento ce l'ha un getter di tipo sei salvato is saved saved com'è? saved saved è un booleano che mi dice se è true significa che lui è allineato con il file system con il disco quindi se è allineato devo attivarla o non attivarla l'icona salvataggio sì o no? attivata o non attivata? eh? no quindi no devo negare set enabled cioè ability se non c'è se non è salvato il documento corrente e e poi c'è redo e l'andu il problema è che l'andu e il redo non c'è una specie di nella cutexedit se ricordo bene non c'è un metodo che mi dice se l'andu è possibile o redo è possibile però ci sono dei segnali che possono fare al nostro caso ci sta il segnale questo è le properties sto guardando il punto sbagliato dove stanno i segnali 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 ci sta undo available e redo available con i bull dell'available quindi il nostro cutexedit emette dei segnali che trasportano il fatto che si possa fare un undo o non si possa fare un undo si possa fare un redo o non si possa fare un redo quindi ci conviene adesso andare in document e noi metterci qui una proprietà che terremo aggiornata ascoltando i segnali di tipo bull is undo available e bull is redo available available pure senza is undo available dobbiamo stare attenti che però non ci siano dei metodi che già esistono così undo available ah già esiste però non ha lo stesso significato a parte che questo è un segnale no non possiamo scrivere una variabile che ha lo stesso nome di un segnale quindi is e is andavano benissimo ok questi li mettono in getter quindi bull is undo available return is undo available e la stessa cosa con il redo quello che stiamo facendo è una cosa puramente grafica non è perché non funziona in questo momento il pulsante se non c'è da fare non fa niente se non c'è da fare undo se non c'è da fare redo se non c'è da fare sabbataggio però vogliamo fare un'applicazione che sia anche professionalmente valida carina eh bene questi nel costruttore dobbiamo inizializzarli eh sicuramente dobbiamo inizializzarli c'è un metodo di inizializzazione grazie al cielo che c'era un font qui ma quando non si doveva leggere dal session adesso non c'è più di default ragazzi un documento quando parte di default non c'ha né l'undo eh né il redo ovviamente non ce li ha perché un documento appena aperto appena creato non c'è niente da da rifare indietro in avanti però ci sono dei segnali ehm ci sono i segnali eh che abbiamo visto prima undo available bool available redo available bool available questi segnali vengono emessi in maniera automatica noi però dobbiamo dobbiamo raccoglierli quindi void eh undo non deve essere lo stesso nome del segnale o potrebbe potrebbe essere non si dovrebbe arrabbiare vai la bool non dovrebbe arrabbiarsi segnali e slot possono avere lo stesso lo stesso nome redo e undo e qua nel costruttore in init perché il costruttore c'ha due costruttori entrambi che chiamano init quindi mettiamo in init ecco perché ha senso sempre un metodo di inizializzazione perché magari avete tanti costruttori che però hanno in comune qualcosa il metodo di inizializzazione quindi connetti il sender sono io il segnale è undo available il ricevente sono sempre io e lo slot si chiamano un po' così undo available però sono di tipo bull i parametri che portano trasportano questi due quindi così quindi così undo available redo available a questo punto dobbiamo implementarli ma l'implementazione è banale perché si tratta semplicemente di settare la proprietà booleana dell'oggetto quindi undo available bull available available ho scritto bene va bene quindi la mia proprietà is non punto in virgola la mia proprietà is undo available sarà uguale a quello che mi è stato passato dal segnale così come la mia proprietà redo verrà aggiornata tutto questo solo per mantenere queste proprietà dico io ma non potevano mettercele direttamente loro nel QtextEdit e vabbè non ce l'hanno messa ce l'abbiamo messa noi queste proprietà a questo punto possiamo finalmente nella nostra main window andare a dire undo action set enabled di nuovo dobbiamo convertire questo documento tanto vale che lo facciamo una volta sola quindi document document start doc uguale convertiamo questo documento qua diciamo not doc is save e qua diciamo undo action è abilitato se ci sta l'undo da fare e no la proprietà il get is undo available for e qua is redo available redo action questo è l'aggiornamento dei tre dei tre pulsanti speriamo tutto funzioni perché dobbiamo andare avanti a questo punto devono essere tutti disattivati di default questa è una cosa che deve essere messa nel costruttore di main window o addirittura in un metodo di inizializzazione che non abbiamo fatto però comunque è così devono partire disattivati sti sti undo e redo quindi undo undo action set enable false redo action undo action set enable false ok quindi partono disattivati come anche il save parte tutto disattivato tutto disattivato creiamo apriamo un file non c'è niente di attivo però ok questo funziona questo no quindi l'aggiornamento di undo redo non va fatto solamente quando cambia una tab ma anche quando cambia il documento e in effetti il save action noi lo andavamo a cambiare anche quando cambia ci sono delle modifiche nel documento vi ricordate avevamo fatto uno slot che si chiama document changed e facevamo se effettivamente cambiate il documento save action set enable true a questo punto dobbiamo andare anche ad aggiornare undo e redo perché cambia il documento quindi eh sì domani doc sender doc sender l'abbiamo chiamato doc sender l'abbiamo chiamato doc comunque il concetto è quello pippo adesso io premo e c'è l'andu vado indietro però il redo non si attiva perché no allora dovrebbe attivarsi il redo non sta funzionando bene facciamo una cosa un po' più strutturata intanto vediamo se il fatto che adesso questo c'ha il l'andu fai il salvataggio vado qui e si disattivano vado qui e si reattivano perfetto crea un nuovo documento e si disattivano ci scrivo qualcosa e si attivano attivo attivo disattivo ok vado indietro vado indietro adesso si attiva il redo vado indietro 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 e alla fine si dovrebbe disattivare questo tizio perché non ti disattivi vabbè c'è sfuggito qualcosa a livello di cattura del segnale forse il segnale non viene messo quando non ci sta più non sta funzionando benissimo c'è qualche baghetto ok vado qui ed è giusto che sia così vado qui e vedete quindi il fatto che io abbia cambiato tab una volta poi si è ritornato ed è cambiato l'andua redo mi fa pensare che non è l'aggiornamento in document change non è proprio perfetto però ragazzi questo è un bug dobbiamo andare avanti lo lascio aperto questo bug però si trova non è una cosa impossibile quindi cambio documento tab aggiornamento interfaccia pulsanti di fatto risolvere il bug per esercizio finalizzare bug fix undo redo modifica documento aggiornamento interfaccia pulsanti status bar ah no ecco questo non è un bug di cambio documento è un bug proprio di di modifica cioè quando noi modificiamo un documento questi pulsanti di undo redo non è che proprio si comportano benissimo chiusura documento corrente eventuale richiesta di salvataggio chiusura applicazione richiesta di salvataggio documenti non salvati chiusura documento corrente ce l'abbiamo uno slot che ci dice che il documento è stato chiuso eccolo qua l'abbiamo già utilizzato per cancellare la tab e e beh ragazzi questo è il momento per dire vuoi salvare o no ovviamente quando è che vuoi salvare quando ci sono modifiche da salvare quindi quando non hai quando quindi if qua di nuovo ci devo pigliare il documento se il documento non è salvato quindi se ci sono modifiche da salvare io gli chiedo se vuole salvarle se mi dice sì o le salviamo cioè dipende cosa vuole sapere facciamo un esempio io qua c'è un documento da salvare lo chiudo mi dice lo vuoi salvare se dico sì lo salva se dico no lo chiude senza salvarlo ma se dico cancel lui non fa niente quindi sono tre scenari diversi la chiusura di un documento quindi intanto ci serve una una message box quindi di tipo ci sono quelli di tipo about no quelli di tipo question fare una domanda quindi sì hai una domanda e il parente sono io il titolo è che ne so sono un copione il titolo è save molto banalmente save il testo è sono un copione save file nome del file save file non mi va riprendere il nome del file vabbè però dai se lo possiamo fare se lo possiamo fare sì string save file to doc ce l'ha il getter del nome dimmi che c'è il getter del nome ce l'ha? file name ce l'ha c'è la save file ci mettiamo pure il doppio apici proprio una cosa super professionale poi beh ci sono i pulsanti dobbiamo andare nelle slide perché le saltammo e dicemmo che quando ci sarebbe servito ci saremmo andati per vedere come funzionano questi benedetti file di dialogo e allora i file di dialogo come come le question hanno dei pulsanti predefiniti che tipicamente sono sì e no se è una question però noi abbiamo la possibilità di personalizzare i pulsanti che stanno nella finestra di dialogo personalizzarli tramite una concatenazione utilizzando questo operatore di pulsanti predefiniti cioè non dobbiamo noi creare push button metterci in ascolto del segnale clicker fare uno slot no in una sola riga decidiamo quali sono i pulsanti e quelli appariranno a schermo quindi i pulsanti che c'ha il note sono yes no e cancel e noi copiamo e diciamo un message box yes andiamo a capo se no qua non si capisce niente questo è la stringa e questi sono i pulsanti yes no lo stai no e cancel e il question restituisce uno di questi tre che noi abbiamo inserito come opzioni quindi possiamo noi dire proprio memorizzare in così qui standard button standard button button press oppure choice possiamo chiamarla scelta spesso lo ha disturbato is undefined forse perché dobbiamo fare include di qualcosa di q message box non penso dobbiamo fare include di non credo che esista standard button è bastato fare questo non è bastato fare questo e allora andiamo nella documentazione q message box message box andiamo a vedere cosa restituisce questo question question ah q message box ah ok non ho usato dovevo usare il qualificatore di classe q message box quindi questo adesso quindi possiamo chiederci visto che gli abbiamo dato questi sono i tre pulsanti che ci avranno nell'interfaccia questo è quello che io ricevo se se choice è uguale a yes devo fa devo salvare quindi però non so dove salvare appunto sta chiedendo di salvare una cosa che che non è salvata posso riusare lo slot di save action mi chiedo andiamoci e vediamo se posso riusarlo lui dice se il file pad non è è vuoto oppure se c'è save as io penso di sì dovrebbe continuare a funzionare perché se se il file non ha se il documento non ha un file associato lui entra qua dentro altrimenti salva direttamente ma perché no se l'abbiamo fatto bene dovrebbe essere robusto però dopo questo quindi per adesso non serve fare altro altrimenti se la choice è non salvarlo che devo fa? non ho niente non devo fare niente e invece se la choice questa invece sì che è importante se la choice è cancel e in particolare non solo cancel ma quindi in tutti gli altri casi cioè se l'utente chiude la finestra di dialogo non mi ricordo se restituisce cancel però è uno dei casi non contemplati cioè non ha premuto né yes né no quindi mi verrebbe a dire in tutti gli altri casi quindi o l'utente ha premuto cancel o l'utente ha rifiutato il dialogo mi verrebbe da dire che io non posso poi cancellare questa tab perché cancel significa beh fermati basta non andare avanti e quindi mi verrebbe da dire una cosa del tipo return esci subito da questa funzione di close perché non c'è niente più da chiudere qui non c'è niente da fare beh anche qui no no va bene non fare niente e poi chiudi va bene perché deve chiudere l'utente ha deciso di non salvare vediamo quindi e quindi questo è il caso no il save file gli appozzi non nessun perché è successo questo il getter non ha funzionato perché il getter è il getter del file name invece noi vogliamo ah quello quando è un file nuovo non c'ha file name capito possiamo fare una cosa del tipo if possiamo fare qua save file name ce l'hai bravo non complichiamoci la vita questione di responsabilità non bravissimo non alteriamo la responsabilità del documento che alla domanda il file name deve rispondere il file name no altre cose e casomai il main window che dovrebbe anziché prendere il nome dal doc lo dovrebbe prendere dalla tab perfetto quindi dovrebbe fare una cosa del tipo tabs get text at index una cosa di questo tipo tabs text tab text at index bravissimo perfetto questo è il modo giusto di farlo non andare al documento la tentazione è sempre forte ragazzi quella di cambiare la responsabilità intervenire interferire questo è un modo giusto quindi nuovo documento vuoi salvare il file new 1 no non so che fare ok non l'ha chiuso rifiuto il dialogo ok non l'ha chiuso non voglio salvarlo e beh può capitare bug c'è un bug quindi se non vuoi salvarlo non fare niente e poi cancella perché si è arrabbiato così tanto è un bug che adesso dobbiamo risolvere intanto vediamo se lo salva voglio salvare lo chiamo pippo pluto paperino e topolino è un bug un grosso grosso bug ma almeno l'ha salvato non lo so perché non sono in quella cartella però posso andare a vedere l'ha salvato e l'ha salvato pure con il contenuto giusto quindi il save action trigger è stato invocato ma il bug non sta qui perché non sta qui perché qui che invece quando noi abbiamo premuto no lo stesso lui è crashato non aveva invocato save action trigger quindi il bug non sta qua dentro credo se non sta qua può stare solo qua come mai è successa questa cosa come mai è successa questa cosa cos'è che lo disturba i am here no ah tra l'altro ha stampato i am here ma comunque se vogliamo fare il debug compiliamo in modalità debug avviamo il debugger e speriamo se l'errore è nostro che lui ci dica in quale riga se invece il crash avviene nel codice di Qt che non significa che è colpa di Qt la coppa è comunque nostra ci dirà che non trova il codice perché Qt non è open source non tutto è open source vabbè vediamo no non è un nuovo documento sì no allora access violation reading significa che qualcuno ha ceduto ad un'area di memoria non valida quindi tipicamente quando si di referenza è un puntatore non più valido lo stack delle chiamate dove stai è nascosto gli epozioni da qualche parte perché c'è la risoluzione bassa quindi mi ha nascosto la tab con gli stack delle chiamate eccolo qua lo stack frame lo stack frame è vi ricordate la chiamata funzione funzione chiama funzione che chiama funzione che chiama funzione questo è lo stack di tutte le chiamate ovviamente alcune stanno nella DLL di Qt perché quello è codice di Qt quindi bisogna andare a vedere nello stack richiamate la prima della lista che sarebbe quella dove è avvenuto il problema beh intanto eravamo noi in tab changed e ah quindi non è un problema di prima ma è un problema di questo e qui il bug vedete la cosa strana pensavo che il bug fosse in quel codice ma in realtà è in questo perché che è successo ragazzi che qui si sta facendo un'ipotesi l'ipotesi che quando cambia la tab c'è un documento e chi ti ha detto magari era l'ultima tab cioè l'ultima ce n'è solo una aperta la chiudo viene invocato a questo slot e io vado ad accedere al documento che sta a quell'indice magari quello un indice non valido perché se non ci sono tab quell'indice sarà meno uno che ne so dipende da qt che ha deciso e io ho fatto un errore l'ho fatto quindi qui bisogna prima chiedersi if anzi bisogna chiedersi visto che vado a pigliare il documento all'indice talbetali if not doc return oppure if doc aperta graffa e ci metto forse più didatticamente valido questo però capite perché in tutti questi slot c'era sempre una specie di controllo iniziale if current document perché non possiamo sapere se in quel momento magari non ci sta più niente e noi andiamo ad accedere a cose che non esistono quindi questo iMir non ci dice niente adesso il bug non era lì ma era in tab changed che oggi abbiamo modificato quindi è colpa nostra e a questo punto se io non lo voglio salvare il bug c'è lo stesso però a questo punto il bug c'è lo stesso perché sto cercando di accedere ah no ho sbagliato non è if not doc è if doc se voglio entrare nella if un errore di svista non è un errore errore ovviamente quindi il bug è lo stesso quindi mo' che lo salvo non lo salvo ma funziona quindi cancel non cancella e quindi ragazzi topolino lo modifico questo non è modificato quindi questo dovrebbe farlo chiudere senza lamentarsi tra l'altro apro un altro file questo si lamenta dico di non salvarlo e non lo salva questo non l'ho modificato non me lo deve chiedere questo l'ho modificato me lo devo chiedere non dico niente oppure dico di non salvarlo e tutto va bene quindi abbiamo fatto grazie per averci ispirato abbiamo fatto anche la chiusura documento corrente ed eventuale richiesta di salvataggio e poi c'è un'ultima cosa da fare chiusura applicazione e richiesta salvataggio documenti non salvati il problema è che la chiusura dell'applicazione con la richiesta di salvataggio di documenti non salvati come la intercettiamo la chiusura dell'applicazione idee nel distruttore è troppo tardi nel distruttore il distruttore anche perché pensateci ragazzi supponiamo che noi intercettiamo la chiusura dell'applicazione nel distruttore di main window supponiamo che ci chiede vuoi salvare tutti i documenti prima di uscire supponiamo che noi diciamo cancel significa ci ho ripensato voglio tornare alla mia applicazione con i miei documenti ma voi state nel distruttore è troppo tardi per farlo quindi non potete farlo nel distruttore e allora cosa ci manca? ci manca qualcosa ci manca quindi il controllo degli eventi a livello di sistema operativo perché una finestra che si chiude è un evento del sistema operativo così come un'altra cosa molto carina da fare è cosa che succede potete fare anche su nei browser su desktop di windows funziona ovunque se io premo tengo premuto control e uso la rotellina del mouse la rotellina si trasforma da scroll verticale a zoom però la nostra applicazione questa cosa non la fa non penso proprio oggi ho montato il mouse solo per questo se io provo a premere control e usare la rotellina assolutamente lui non lo fa usa la rotellina come scroll quindi vedete ci sono delle situazioni dove i segnali che finora abbiamo usato non ci consentono di fare tutto proprio tutto tutto voglio intercettare la chiusura dell'applicazione voglio intercettare una combinazione di control più rotellina del mouse gli eventi gli eventi del mouse gli eventi della tastiera tra l'altro gli eventi della tastiera come faccio a intercettare il fatto che l'utente ha premuto un tasto uno specifico tasto magari se uno vuole fare uno scherzo ad un proprio amico intercetta che ne so i tasti della tastiera e dice se io se la lettera è questa io mi rifiuto di metterci la lettera nell'area di testo e quindi uno pensa che quel tasto sia rotto invece siete voi che avete filtrato l'evento tasto che ne so c premuto e non volete che venga premuto quel tasto quindi ci servono dei meccanismi un po' più raffinati per per il controllo degli eventi del gli eventi del sistema operativo ed è questo il nuovo argomento di oggi che siamo arrivati un po' tardi quindi non riusciremo lo discutiamo però la messa in pratica la rimandiamo alla prossima volta quindi gestire gli eventi è adesso il nuovo argomento che significa gestire gli eventi significa catturare gli eventi nativi del sistema operativo ora questa operazione la fa per noi Qt quindi comunque Qt è ancora un intermediario non possiamo noi pretendere di catturare proprio gli eventi di Windows gli eventi di macOS e gli eventi di tutti Linux e Unix eccetera però Qt questi eventi li trasforma in oggetti di classe Qevent quindi l'evento mouse del sistema operativo Qt lo trasforma in un evento Qmouse event l'evento key event l'evento tastiera lo trasforma in key event l'evento resize resize è quando quando noi facciamo questa cosa qui questo è l'evento resize in resize event close event chiusura della finestra eccetera eccetera e qual è il vantaggio? il vantaggio è che una volta che questo è un oggetto io gli posso chiedere tutto gli posso chiedere ma quale tasto è premuto per quanto tempo l'è premuto in quale coordinata x y dello schermo l'è premuto key event quale tasto è premuto quale combinazione di tasto è premuto per caso avevi control attivo mentre premuto control più qualcosa quindi avete un controllo capillare di tutto quello che accade sul sistema non solo eventi del mouse e della tastiera ma anche eventi dei device che ne so avete connesso un hard disk avete che ne so vi siete connessi a internet quindi l'evento il sito ha risposto eventi addirittura di basso livello dell'hardware il timer event e noi li sfrutteremo gli eventi del timer per i videogiochi perché i videogiochi hanno un motore che è basato sul clock come elettronica digitale si insegna tutto il motore di ogni sistema è sempre il clock cioè ci vuole qualcuno che dà il tempo il gioco ha un tempo pensate al frame rate il frame rate è funzione del tempo di gioco la velocità di gioco è funzione di questo tempo cioè più questo timer è veloce e più il gioco è veloce ovviamente poi intervengono altri fattori cioè se la grafica è troppo complessa il disegno non segue il clock di sistema e quindi c'è un rallentamento questo si traduce in un frame rate più basso quindi questi sono gli eventi eventi dei device eventi esterni eventi del sistema operativo e tutti questi eventi vengono trasformati in un oggetto della classe QEvent a questo punto dobbiamo capire ok ma noi di che ci frega noi nel codice dove possiamo catturare questi eventi del sistema operativo trasformati in QEvent beh spieghiamo dietro le quinte quello che accade ma non siamo noi a fare quello che vi sto per dirvi QT cattura gli eventi del sistema operativo del tipo oh l'utente ha premuto con il mouse in questo punto ora cosa fa QT dice ma in questo punto quale oggetto c'è? in questo caso c'è un oggetto questo è PowerPoint è un oggetto area di testo allora cosa fa QT notifica a quell'oggetto che si trova in quel momento sotto al click il tipo evento QMouseEvent quindi QT fa da dispatcher dell'evento cioè c'è un evento ma ok a chi lo devo consegnare questo evento lo consegna se c'è un pulsante clicco su pulsante lo consegna al pulsante quindi c'è sempre questo concetto di l'evento è generato dall'utente ma deve arrivare al destinatario giusto in quel caso il pulsante o l'area di testo quindi quando io prima dicevo control più rutellina chi è che deve ricevere l'evento? la QTextEdit non il main window questo avviene automaticamente per fortuna quindi non dobbiamo essere noi a fare questo dispatch però avviene così dobbiamo a meno sapere che avviene gli eventi tipicamente li gestisce in automatico QT ma è anche possibile in determinate e molto avanzate situazioni generare eventi non spontanei cioè manualmente ovvero simulare un evento potrebbe capitare in alcune specifiche situazioni di dire voglio simulare il click del mouse sul pulsante però non lo deve fare l'utente lo voglio simulare io beh si può fare dite al pulsante ecco guarda ti mando un evento di tipo mouse event con il click sinistro e questo è un modo per simulare un evento quindi gli eventi possono anche essere simulati in modalità sincrona sincrona significa che sincrona si mette in attesa che il receiver catturi processi l'evento e asincrona che invece se ne frega e va avanti questo però è una cosa molto avanzata che ci interessa relativamente una cosa che invece ci interessa molto di più è una volta che gli eventi arrivano all'oggetto quindi al ricevente dove arrivano in quale metodo arrivano arrivano nel metodo event quindi tutti gli oggetti di Qt Qwidget non Qwidget quindi da QObject in giù hanno un metodo che si chiama event che prende l'ingresso un event quindi il metodo si chiama event e l'oggetto è un QEvent questo è il ricevente generale dell'evento che viene dal sistema operativo quindi è arrivato un è arrivato un un evento di tipo mouse cosa fa questo gestore generico richiama su interno c'ha una una mega switch if se l'evento è di tipo mouse lo mando all'evento al gestore dell'evento specifico per il mouse cioè per esempio come si chiama mouse se l'evento è di tipo mouse premuto io che sono event dispatcher generico lo mando al dispaccio specifico per il movimento per il premere dei pulsanti del mouse se invece ho fatto doppio clic ho il doppio clic event se ho rilasciato il mouse release se ho mosso il mouse move se questo ci interesserà la prossima volta se ho usato la rotella will event se tablet sta per touch praticamente se ho premuto col dito sullo schermo è un evento diverso dal mouse perché il dito ha una superficie di contatto molto maggiore ovviamente è un tablet event oppure se ho chiuso la finestra è un close event se il mouse è entrato nella finestra cioè praticamente ci è questo significa che da che era fuori adesso è dentro la finestra se invece live è uscito dalla finestra se qualcuno ha premuto un pulsante se qualcuno ha rilasciato un pulsante di questi event ended ce ne sono tanti tantissimi questa non è una lista esaustiva molti altri c'è addirittura il trascinamento il rilascio il disegno cioè questo è un gestore che si occupa del disegno grafico dell'oggetto e quindi questo ci consentirà di disegnare noi se vogliamo fare il gioco dello snake il nostro widget noi andremo a ridefinire il gestore dell'evento di disegno perché qui noi disegniamo noi quello che vogliamo far vedere all'utente e molti altri quindi ricapitolando gli eventi vengono generati dal sistema operativo Cuttili cattura in qualche modo dietro le quinte attraverso un meccanismo di notifica ma non ci interessa quello che ci interessa è che alla fine questi eventi vanno a finire nei gestori specifici di eventi che tutte le classi hanno ovviamente la classe widget ha i suoi che sono specifici per la grafica perché widget è una cosa grafica quindi è normale che ci sia un evento di tipo mouse che entra non avrebbe senso se non fosse grafico paint keypress eccetera tra l'altro questi eventi ragazzi hanno il loro alter ego in tutti gli altri framework e anche nella programmazione web nella programmazione web ci sono keypress event mouse press event mouse double click event la terminologia è sempre la stessa ok noi a questo a che ci serve tutto questo perché ne stiamo parlando perché grazie all'ereditarietà e in particolare a nel c++ l'ereditarietà si implementa con la parola chiave virtual cioè un metodo virtuale può essere reimplementato significa che il mio widget ha i suoi event handler specifici e io non lo sapevo fino a ieri adesso che lo so se io vado a ridefinire quel gestore di evento io sto intercettando quell'evento quindi ho una libertà adesso totale che prima nei segnali non avevo prima i segnali erano 3-4 basta e se io volevo intercettare il fatto che il mouse entra nell'area del pulsante senza che clicca nemmeno adesso lo posso fare posso intercettare tutto quello che accade sul sistema e quindi è una questione adesso di sbizzarrirsi con la fantasia posso filtrare l'input da tastiera perché per esempio è una forma dove non si possono inserire i caratteri speciali oppure posso accettare il drag and drop quindi sto giocando a dama posso fare il drag and drop di una pedina in un'altra casella posso fare lo zoom con la retellina del mouse e il contro questo lo facciamo possiamo intercettare i movimenti del mouse quindi possiamo implementare un paint proprio il paint di windows uno strumento per disegnare cioè ogni volta che l'utente muove il mouse io so la posizione lo intercetto e quindi disegno un puntino in una lavagna e quindi faccio un tratto e in generale ragazzi stiamo praticamente intercettando tutti gli eventi possibili e immaginabili questo però come si fa? siccome dobbiamo reimplementare un metodo virtual significa che noi quel widget lo stiamo customizzando personalizzando cioè stiamo usando l'ereditarietà tipo document document eredità da qtext edit e quindi document lui sì che può fare tutti questi si chiamano override cioè sovrascrivere il comportamento predefinito in questo caso la cattura degli eventi a questo punto può esserci un po' di confusione tra eventi e segnali sono la stessa cosa? non sono la stessa cosa? qual è la differenza? i segnali vengono emessi dagli oggetti in funzione di un evento che sicuramente è accaduto però questo lo fa chi ha scritto quella classe quindi chi ha scritto quella classe dice per esempio se io andassi nel mouse press event implementazione se andassi nella classe proprio nel sorgente di qpush button ci sarà per forza un mouse press event gestore dell'evento di premere il mouse che dentro se il pulsante sinistro è pressed lui genererà un segnale di tipo clicked poi setterà una variabile interna press da true questa variabile a che serve? serve perché quando verrà ridisegnato il pulsante in funzione che questa variabile è true oppure no il pulsante si disegna premuto oppure no quindi tutte quelle cose che diamo per scontate quando usiamo i widget è perché qualcuno dietro se le è fatti da zero però questo significa che anche noi ce li possiamo fare da zero quindi se noi stiamo facendo un gioco che ha una grafica tutta sua questo ci è molto comodo o no gli eventi quindi si trovano ad un livello di astrazione più basso dei segnali cioè chi scrive il codice cattura gli eventi e può generare dei segnali i segnali si possono catturare a loro volta però solo quelli che ci sono gli eventi sono tutti i segnali sono quelli che lo sviluppatore ha definito per l'ester quindi un oggetto decide di emettere segnali a verificarsi di certi eventi questa è la frase che riassume la differenza tra eventi e segnali e a questo punto cosa possiamo fare noi a questo punto la prossima volta possiamo andare nel nostro notepad un'altra volta però questo veramente è l'ultima volta e dobbiamo fare solo una cosa non dobbiamo implementare chissà quante cose dobbiamo andare a controllare la rotellina del mouse quindi praticamente quando intercettiamo contro più rotellina su o giù andremo a invocare dei metodi predefiniti che fanno lo zoom in avanti e indietro della casera di testo numero uno numero due che qui non è scritto ma è scritto qui nelle specifiche progettuali del 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 notepad chiusura applicazione richiesta salvataggio documenti non salvati a questo punto se non potevo catturarlo nel distruttore l'evento chiusura applicazione adesso dove lo catturo lo catturo in un gestore dell'evento quindi event non è uno slot quindi non è qua è una sezione public event overridden event handlers cioè gestore degli eventi che andiamo a sovrascrivere 2d probabilmente uno sarà non restituiscono void restituiscono bull close event q close event event mi dice che non è così bisogna andare nella documentazione bisogna scriverlo uguale proprio là alla firma altrimenti non funzionerà è un void scusate è un void quindi close event void dovrebbe diventare non è diventato corsivo in alcuni sistemi quando voi fate l'override di un metodo della super classe ve lo fa anche vedere che è un override comunque questo che ci servirà almeno consentitemi solo di metterci una specie di hello world e poi finiamo questo ci consente di intercettare la chiusura dell'applicazione e perché voi dite questo è diverso dal distruttore main window perché mai questo è diverso dal distruttore o è window oltre a dire vorrei chiudermi una cosa che ho saltato ma non era il momento di spiegarla è quando noi siamo il gestore di un evento abbiamo i pieni poteri quindi possiamo accettare l'evento o ignorarlo e questo è bellissimo abbiamo un controllo davvero capillare di tutto quello che accade quindi se adesso facciamo e ignore facciamo un bel event ignore e lui dice non ce l'hai vabbè devi includere come al solito la classe bla 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 adesso noi ragazzi abbiamo costruito un notepad quindi pensate a chi fa i crack che non vogliono essere chiusi queste applicazioni strane si scherzi queste specie di virus dovrebbe non chiudersi proviamo non si chiude più vorrei chiudermi ma non posso ovviamente non è che non si può chiudere si può forzare la chiusura però questo vi fa capire che si può intercettare qualunque evento e ignorarlo quindi posso intercettare gli eventi da tastiera e ignorarli quindi l'utente non può praticamente far funzionare la tastiera quelli da mouse e ignorarli quindi può cadere una cosa stranissima che uno apre un'applicazione ci va con il mouse dentro e il mouse sta funzionando appena il mouse entra nell'applicazione il mouse si ferma se voi lo fate uscire poi ricomincia a funzionare quindi state proprio ignorando potete davvero siete praticamente delle divinità la vostra applicazione adesso avete il controllo totale di quello che sta accadendo prima ovviamente non avevate questo controllo bene la prossima volta quindi facciamo la chiusura dell'applicazione è lo zoom e poi la prossima settimana finalmente parliamo di disegno grafico quello che serve a videogiochi in sostanza perché i videogiochi hanno a che fare con il disegno delle texture dei componenti con le animazioni con il motore il motore appunto il timer che noi andremo a definire il frame rate quindi tutto quello che serve per i videogiochi animati prossima settimana lo facciamo ok interrompiamo la registrazione ok grazie a tutti